Il ruolo dei microrganismi in agricoltura Nell'agricoltura biologica i microbi sono molto diffusi per la protezione delle coltivazioni. Utilizzando insetticida viventi, gli agricoltori riescono a contrastare le infestazioni dei parassiti. Microrganismi come funghi, virus e batteri sono ottimi alleati dell'agricoltura. Esistono diversi ceppi batterici impiegati per la loro specificità nella protezione delle colture. Per quanto riguarda i microrganismi ad azione antiparassitaria, vediamo che i meccanismi d'azione sono svariati. Per esempio il Bacillus thuringiensis subcurstrachio riesce a sconfiggere le infestazioni stroncando il problema alla radice, cioè uccidendo le larve. Questi batteri vengono somministrati sulla vegetazione sotto forma di spore e cristalli. Le larve infestanti ingeriscono i cristalli che nell'intestino della larva si degradano in tossine causando la morte del parassita. Non solo agricoltura biologica, i microrganismi possono migliorare le rese e la stabilità di qualsiasi metodo agricolo. Ottimizzando le comunità a microbiche, in vent'anni le rese potranno crescere del 20% riducendo in modo concreto l'impiego di pesticidi e fertilizzanti. Per ora, ai fini di aumentare le rese agricole non si è affatto altro che incrementare il consumo di fertilizzanti, pesticidi e introdurre gli organismi geneticamente modificati. Aumentare l'impiego di fertilizzanti e pesticidi è una scelta improponibile per il benessere dell'ambiente. Eppure migliorando le rese dell'agricoltura i raccolti crescerebbero del 45-70%. Un incremento capace di risolvere diverse problematiche economico-sociali. Con l'introduzione di un progetto atto a caratterizzare il microbioma di una delle maggiori colture, le rese delle coltivazioni agricole potrebbero raggiungere valori promettenti. Uno studio dettagliato è stato pubblicato dall'American Academy of Microbiology. Per gli interessati, il rapporto si intitola Of Microbe Scam Help Feed The World.